Quest'ancio è un mistero da risolva e per fama aiutare... Silenzio! Dopo i festeggiamenti dell'anno scorso per i 40 anni di attività, insieme a Stefano Guidi ci chiedevamo che cosa possiamo portare ancora come novità, un po' per sorprendere sempre il pubblico. E così ci è venuta in mente l'idea del giallo, il giallo con tutte le sue caratteristiche, la casa chiusa dalla neve, un omicidio, l'assassino da scoprire, perché comunque è sempre una forma di intrattenimento accattivante. Però si sa che i gialli hanno sempre bisogno di un'ambientazione particolare, hanno bisogno anche di un apparato scenografico a volte importante e si sa che le compagnie amatoriali non hanno sempre i mezzi sufficienti o il budget sufficiente per affrontare tutte delle necessità anche tecniche. E così i nostri attori, mentre porteranno avanti la vicenda che già di per sé è complessa, dovranno pure affrontare degli incidenti, degli imprevisti durante la loro rappresentazione e dovranno farlo all'impronta, all'improvviso, perché il pubblico è là davanti e non si può interrompere la rappresentazione, come si dice, the show must go on. E quindi questo spettacolo diventa alla fine un pretesto per fare un divertente gioco di teatro nel teatro in cui la compagnia fondamentalmente prende in giro se stessa. Page the Daxi quindi è l'affermazione che fanno gli stessi attori quando vedono che tutto il loro lavoro sta andando un po' a rotoli e come si dicessero, beh, Page the Daxi è un po' G. Però ovviamente non è quello che gli spettatori diranno quando usciranno da teatro. Andiamo in scena lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 marzo. La prevendita parte da giovedì 14 presso il botteghino del Politeama dalle ore 16. E che dire, vi aspettiamo numerosi per divertirci insieme. Mi raccomando, Nita Media è un gial, 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 giale!